Ciao ragazze, riccomi oggi sul canale con il secondo video spacchettamento del Lavo di Campagna 2 Come avevo preannunciato mi sarebbe arrivato un altro ordine molto più grandino quindi vado subito a mostrare i prodotti Allora, partiamo Dunque, mi hanno ordinato che c'era una promo 3 sieri per i capelli dell'Avance Technique Allora, questo è l'Ultra Sleek Lotus Shield Technology Poi abbiamo quello all'olio di Argan, buonissimo Io l'ho utilizzato per anni e quindi continuo a trovarlo molto buono E poi abbiamo quest'altro qua, Ultimate Shine Adesso vi dico meglio Allora Quello all'Argan è appunto arricchito Olio applicato sui capelli umidi e asciutti Li rende morbidi e belli tutti i giorni Infatti ammorbidisce un sacco Quindi questo ve lo consiglio un sacco Gli altri non li ho mai provati in realtà Uno è trattante per capelli Ultra Sleek Che combatte l'effetto crespo Quindi questo qui viola E poi abbiamo questo invece Che è per capelli Ah, tratta le doppie punte Per una massima lucentezza Allora, praticamente avevate la promo 3 sieri a 10,95€ Anziché 3,99€ l'uno Quindi questi Poi abbiamo Le cremine mani Mi hanno ordinato questa Che è Alla glicerina e olio di Di zozoba 75ml Poi mi hanno ordinato questa Dell'edizione estiva All'olio di avocado Molto buona Anch'io l'ho acquistata E poi Abbiamo la linea Edizione limitata Ti amo Questa qua Che è al gilsomino Glicerina Praticamente c'era la promo Con due creme a scelta 3,50€ E quindi Una promo Più una parte Che non ha usufruito la cliente Però vabbè Io non avevo bisogno di crema Altrimenti l'aggiungevo Ma ho già scorta Poi Andiamo avanti Abbiamo Questa Che mi ha riacquistato La cliente Dicendo che è buonissima Ed è una linea nuova Di Avon Recente Che è appunto Alla cannabis Sativa oil Ecco qua Questo è un balsamo Mani e corpo Con la formula La canapa E aiuta a lenire la pelle E riduce Gli arrostamenti Questo è 150ml Me ne ha ordinate Ben due Eccolo qua E questa linea Allora Costa 6€ Questa linea La canapa In realtà Hanno fatto altre cose Che se trovo Ve le faccio vedere Velocemente Ma non mi ricordo La pagina Ci siamo quasi Hanno fatto per dire L'elisir per le labbra L'essenza viso illuminante Ecco qua E poi hanno fatto Balsamo labbra Olio latte detergente Struccante E poi appunto Questo balsamo mani E anche la crema Da giorno Quindi tutte queste belle Cosine qua Andate a dare un'occhiata Al catalogo Perché Insomma Me ne hanno parlato bene Di questo Poi Le altre cose Non lo so ancora Ad ogni modo Questo è E poi Mi hanno ordinato Delle new La crema Restoring Quella da notte Eccola qua Questa qui E Costata Questa è la Restoring Night 16,99 Poi mi hanno ordinato Quella da giorno Con protezione solare 25 E questa Costata 21,99 Aspettate che controllo E poi mi hanno ordinato Anche Questo elixir Sempre della stessa linea Duo L'elixir Ah no Scusate Aspettate Non voglio dire Delle cacchiate Qua si è scritto L'elixir 21,99 Che è da 40 ml Di prodotto Poi abbiamo La crema notte A 16,99 E L'altra Da giorno A 9,99 Perché se acquistavate Due prodotti Della linea new Avevate lo sconto Sulla crema da giorno Quindi anche qui C'era l'offerta Poi Mi hanno ordinato Due bubble bath Questo è da un litro Ed è il soft pink Molto bello Gigante Si sente profumo Da fuori la bottiglia Addirittura Quindi Vi lascio capire E poi un altro Al Relive And Recover Muscle therapy Questo addirittura È una terapia E Questi Anche loro Erano in offerta Appunto Che adesso Vi dico Da catalogo Tra l'altro Queste sono tutte Due novità Di bubble bath Quindi appena uscite E Questo è All'estratto naturale Di eucalipto E l'altro È Alle Rose Appena colte Quindi quell'altro Deve essere Super super Profumato Comunque Fatto sta che Questi Li avevate Due scelte 8,90 euro Quindi due litri 8,90 euro Di Bubble bath Quindi buonissimo Poi andiamo a vedere Gli ultimi tre Prodottini Allora Mi hanno ordinato Questo Che è il mascara Avon Euphoric Nella tonalità Navi Quindi blu Il pack Ve lo faccio vedere Al volo È questo Molto bello E lui E lui E lui E lui E lui E lui È costato 7,99 euro Poi mi hanno ordinato Un altro mascara Sempre in linea Però Mark Al Biggest Stream In volume Sempre Navi Quindi Questa linea E lui È Praticamente Quello Volumizzante Nel pack Arancione E anche Questo 7,99 euro Quindi Buonissimo Ultimo Prodotto Non per importanza È Questo Power Stay 24 ore Quindi Questa è la nuova linea Che hanno fatto A lunga tenuta Tra l'altro Adesso Stanno uscendo Le tinte Labra No Transfer Che Avon Non ha mai fatto Finora Io All'inizio Dicevo Che Tenevano Pensavo Che tenessero Come le No Transfer Ma in realtà No Quindi Adesso Le Power Stay Probabilmente Saranno molto più resistenti Comunque Ho fatto questa linea E questo È il fondotinta Nella tonalità Nude Quindi La più chiara Normale Anche per la mia Cara ragione In realtà E lei È Praticamente In questa Bellissima In questo Pack Molto opaco Bellissimo Da 30 ml Ha provato Il campioncino Gli è piaciuto Quindi È molto bene Anche mia Suocera Ha provato Il campioncino E mi disse Quest'estate Che è molto buono Che lo voleva Acquistare Poi vedremo Quindi Intanto Questo è E Niente Quindi Questi sono Tutti i prodotti Che mi sono stati ordinati Spero che il video Vi sia piaciuto Spoliciate Mettete un bel like Iscrivetevi Per non perdervi Appunto I prossimi Fatemi sapere Se anche voi Ne approfittate Con i saldi E E niente Se invece Volete ordinare Da Avon E non sapete come fare Contattatemi Qua sotto Che vi spiegherò Come fare online Tramite il mio shop Virtuale E niente Mando un super bacione E al prossimo video Ciao